Se vogliamo riutilizzare i nostri punti controllo in una nuova animazione, è necessario, prima di chiudere o di dare l'ok al muovitracciato, salvare, dove vogliamo, scegliamo la nostra directory, io scelgo la gap, metto un nome al file dei punti, andiamo ok, provo a scrivere perché è già stata salvata, ok, e chiudiamo, in questo caso non do l'ok ma annullo, riapriamo nuovamente sposta tracciato, diamo applica semplicemente, nessuna animazione, modalità movimento, al centro, apri e scegliamo il nostro file appena salvato, diamo ok, vedete, abbiamo riproposto nuovamente il tracciato e possiamo così riproporlo ogni volta che vogliamo.